Ciao, benvenuti su Goldi Unicorn Artarot. Ciao carissimi e carissimi. Oggi voglio andare a vedere per voi che cosa vi sta cercando. Cosa o chi anche è? Cosa o chi vi sta cercando in questo momento? È qualcosa che naturalmente tu hai già dentro di te ma non si è ancora manifestato. Intanto voglio chiedervi prima di incominciare con una croce celtica se i video di segni zodiacali vi sono piaciuti perché così ve ne faccio ancora molto volentieri. Allora andiamo ad incominciare con la croce celtica. Cos'è che ti sta cercando ma che fondamentalmente è già dentro di te? E ricordati che questo video è per la tua, per ispirarti anche nella tua manifestazione. Quindi mettetemi in risonanza se ci sono dei messaggi per voi, se vi risuona. Allora, direi che c'è proprio qualcosa che sta arrivando. Accendiamo un po' più di luce perché amo questi tarocchi che sono però effettivamente un po' scuri. Qui c'è già quello che ti sta cercando. Chi ti sta cercando è proprio un dono. Qualcuno ti vuole fare un dono. Ma questo dono potrebbe anche essere un dono che arriva non da questa dimensione. Potrebbe esserci qualcuno vicino a te che ti vuole molto bene. Potrebbe essere appunto, non so, mi viene da dire anche una nonna, qualcuno che per te era importante quando eri bambino. Che ti vuole dare proprio una buona notizia e te la vuole far capire. Infatti viene proprio nei sogni. Nei sogni oppure ti arrivano dei flash. Ti arrivano dei flash così improvvisamente. E guarda, la notizia che ti vuole arrivare proprio il mondo è bellissima, è questa. A parte che già che ci sono, vi dico anche un po' di segni perché questi tarocchi non hanno i segni classici dei tarocchi. Sono un po' cambiati. Quindi vi voglio dire che se è qualcuno potrebbe essere per esempio una persona del capricorno, potrebbe essere dell'acquario, potrebbe essere dello scorpione, oppure potrebbe essere dei pesci per esempio, oppure avere l'ascendente, oppure tu che stai ascoltando. Comunque sia, ve li do così in più diciamo, comunque quello che vale è il messaggio che ti sta dando. Quindi c'è qualcuno che sta comunicando già con te per dirti che stai per raccogliere qualcosa di molto bello. Il mondo come carta finale sulla croce celtica è proprio bello. Molte persone di voi pensano all'amore, va bene, qui c'è un cavaliere di coppe sul passato, poi ci metteremo altre carte magari per capire. Andiamo a finire la croce celtica. Che cosa vi vogliono dire queste carte, no? Comunque vi vogliono dire che anche nel vostro passato c'è stato comunque un grande amore, qualcuno che vi è rimasto molto impresso. Comunque quello che sta per arrivarti, che ti sta cercando, che hai già dentro di te, che si manifesterà, è qualcosa che ti renderà molto spirituale, mi viene da dirti proprio. Cioè, come spiritualità io intendo che ti renderà molto connessa con l'universo, ti sentirai proprio un tutt'uno. Lo dico perché è proprio l'insieme delle carte che mi sta dicendo questo. Tu sei molto predisposta a manifestarti qualcosa che ti piacerà tantissimo. Hai una coppa fra le mani, hai la colomba della vittoria sulla tua testa e nello stesso tempo c'è anche sotto i tuoi piedi il mare in tempesta, come se tu davvero mettessi sotto di te le cose che non funzionano più. E guarda, qui c'è proprio un meraviglioso dieci di coppe che ti dice che uno dei tuoi grandi desideri è comunque l'appagamento d'amore, la famiglia. Ecco, quindi per quello che vi dico c'è qualcosa che vi sta cercando ma potrebbe essere anche chi. Allora, andiamo poi a vedere che tu ti senti un po' solo o sola in questo momento, che è successo qualcosa proprio sull'amore, che potrebbe essere questo amore del passato, ma anche un tuo amore del passato che ti ha lasciato un po' un senso di disfatta, mi viene da dire. E' come se tu volessi tornare un po' indietro nel tempo e dire, ma se avessi fatto quella cosa, se non avessi detto quella cosa, è come se ce l'avessi un pochino con te stessa, ma non ti preoccupare, mi viene proprio da dirti non avercela con te stessa, perché ognuno di noi fa quello che può fare in quel momento preciso. Quel momento è andato così e doveva andare così, eh? Guarda, qui di nuovo parlano di un re di coppe che vuole venire comunque verso di te, ecco, quindi ti sta cercando questa persona. Guardate come sono abbinate queste carte, quindi questa persona ti sta cercando nel suo cuore, secondo me, quindi potrebbe essere anche una persona nuova. Tu adesso sei nella fase, sarai in una fase di rinascita e questo l'abbiamo visto anche perché c'è qualcuno che sta comunicando con te. Io ti ho detto un trapassato, ma potrebbe essere anche un angelo degli angeli, eh? Qualcuno con cui tu preghi molto, però mi viene anche da dire che adesso, in questo preciso momento, sei nella fase di... Mi lascio un po' cullare. Allora, ci sono due fasi in cui ci si lascia un po' cullare dalla vita, quella attiva e quella passiva, no? Quella passiva è, va bene, lo guardo in senso positivo comunque, eh? In senso olistico, diciamo, quindi tu ti trovi in questo momento, diciamo, di difficoltà, però hai due modi di viverti questa cosa. Oh, mi lascio andare, credo nell'universo, perché qui comunque si intravede un orizzonte che raggiungerai, che ha a che fare con questo, no? Quindi puoi raggiungere questo orizzonte dicendo, ma io mi lascio veramente, mi affido, mi affido al cielo, mi affido alle preghiere, so che tutto funzionerà. Mi affido a questo orizzonte, no? Oppure può essere attivo il tuo modo di essere, cioè io credo nell'universo, sono... Mi lascio andare in quello che sta accadendo o che sta per accadere, ma io vedo già l'orizzonte, perché lo sento dentro di me. Quindi chi si sente più attivo dentro di sé ha già un'intenzione chiara di raggiungere un luogo dove state meglio, dove probabilmente ci sarà, probabilmente perché? Perché per alcuni di voi ci sarà l'amore, per qualcuno di voi ci sarà un successo personale, perché comunque il mondo è sempre un successo personale. Andiamo a mettere l'ultima carta della croce celtica, che sono le stelle. Quindi qui voglio dire, se voi volete un successo personale, mi viene da dire proprio il destino, quindi che voi siate attivi, parte attiva o parte passiva, che è semplicemente un modo di essere, ma funzionano tutte e due. Attivo è lascio fare alla vita, all'universo, al fatto, mi fido. E l'universo poi farà il resto se avete seminato bene, naturalmente. Oppure sono attivo, ho proprio l'intenzione, metto tutti i giorni un'intenzione, metto un seme tutti i giorni, perché so che arriverò là dove voglio arrivare, no? Quindi comunque qui raccoglierete un successo. Naturalmente qui la stesa con anche il re di coppe che è uscita va un po' più verso l'amore, non si può dire di no, però l'amore è anche l'amore per se stessi, anche se qui abbiamo visto che comunque è uscito un re di coppe, il dieci di coppe, quindi vedete che tutto va verso l'amore. Allora, visto che all'inizio si parlava appunto di messaggi che ti arrivano o da un tuo trapassato o dagli arcangeli, messaggi che ti arrivano nella notte mentre sogni, o mentre sei nel dormiveglia, o mentre sei in profonda meditazione, comunque questi messaggi ricordati che ti arrivano sempre quando tu sei molto calma o calmo. Allora, andiamo a metterci un arcangelo qua. Allora, sei molto dotata, perciò ho dotato, perciò tu senti, sei un bambino indaco cristallo, perciò tu senti e potrebbe anche voler dire che hai un legame con i bambini, però riferiamoci a questa stesa. Qui Metatron ti dice che tu si puoi aiutare, potrebbe essere una delle tue qualità, delle tue doti, ma soprattutto questo, secondo me, in questa stesa, significa che tu hai delle doti proprio profonde di sensitività e quindi non mancheranno questi messaggi che ti daranno proprio, come dire, una chiarezza. Ecco, quello che ti sta cercando, tu te lo sogni prima, prima che arrivi. Ecco, questo mi viene da dirti, anzi no, prendiamo un altro angelo proprio per completare, diciamo, questa croce celtica, poi ci aggiungo delle carte sopra. Allora, qui ti dice che supererai tutte le difficoltà all'arcangelo Geremiel, quindi il peggio è passato, stai superando tutte le difficoltà, come del resto si vedeva già prima da questa carta, no? Quindi chi aspetta l'amore andrà verso l'amore dentro se stesso e poi l'amore ti verrà incontro proprio nella vita, eh. Andiamo un po' a vedere di più. Allora, vediamo, mettiamo delle carte qui e vediamo. E' proprio una vittoria, eh. Qui abbiamo appunto questa meravigliosa energia dell'asso di pentacoli, la volevo appunto mettere qua, no? Quindi qui c'è proprio la possibilità, la probabilità che quello che tu stai cercando e ti sta cercando, o la persona, però ti sta cercando proprio una relazione. Però, sì, ti ripeto, se tu stai pensando, visto la fine della croce celtica, se stai pensando al mondo, se stai pensando a qualcosa che deve accadere nel tuo mondo, e questo accadrà, perché, come ti dicevo, è proprio un destino, eh. Comunque qui rappresenta proprio veramente il tuo successo, qualcosa che deve assolutamente accadere. Vedi che anche qui c'è la strada segnata. Mi viene proprio da dire che chi sta guardando questo video ha proprio un destino, e non è qui a caso ad ascoltarlo, no? Ha proprio un destino che, se fino adesso è stato nascosto, è stato celato, adesso è il momento proprio di andare a vedere, a raccogliere, a prenderselo, anzi, mi viene da dire, andatevi a prendere quello che è vostro, perché ve lo meritate veramente, eh. Quindi le insidie, come in tutte le cose, ci saranno. Però se state pensando all'amore, qui in arrivo, che ti sta cercando è non solo una storia d'amore, perché è molto concentrata la storia d'amore. È ovvio che la storia d'amore poi arriva anche alla persona. Però è come proprio se dentro di te tu adesso fossi pronta a una relazione d'amore anche passionale. Allora, dove si costruisce? Comunque, guardate, secondo me c'è anche proprio qualcosa, eh, che sta arrivando adesso qui con il tre di pentacoli. C'è la persona, ma c'è anche qualcosa. Quindi per molti di voi potrebbe davvero essere un successo personale. Quindi vediamo un attimo che cosa ti dicono questi oracoli per raggiungere quello che tu hai dentro poi alla fine, no? Perché se tu lo stai cercando, è proprio vero che quello che stai cercando ti sta cercando, no? E quindi qualcosa accade sul serio. Vediamo che cosa ti dicono qua. che tu intanto sei comunque in movimento, tu intanto vibri di qualcosa, tu intanto sei vibrazione. Quindi tu in questo momento sai dentro di te, anche quando una persona sta in silenzio, in realtà una persona parla, parla la sua energia, parlano le sue cellule, no? Quindi questo ti vuole dire. Prendiamone un'altra. E che dire, molti di voi davvero sono disposti, perché lo diceva anche qui, proprio ad avere a che fare comunque con persone più giovani. Forse siete degli insegnanti o siete predisposti a diventare insegnanti, non so, questo lo sapete voi. Comunque uno dei... Secondo me, ecco, mi viene da dirvi questo, che voi, quello che tu cerchi, che ti sta cercando, per molti di voi è un dono che avete dentro e che si espande. Per molti avrà a che fare con i bambini o con gli adolescenti, eh? Comunque ricordatevi che tu sei una persona magica, qui abbiamo un po' l'unicorno, no? Quindi non opporre resistenza, perché qui sta veramente arrivando una bomba, mi viene proprio da dirvi, eh? Allora, andiamo a metterci un po'... Andiamo a metterci un po' di altri tarocchi. Cambiamo un po'. Allora, andiamo a vedere di più. Allora, adesso, siccome qui arrivano doppie cose, o vi arriva sia l'amore che, diciamo, qualcosa che volete realizzare, vediamo l'energia, come vi ho detto, va più sull'amore, perché evidentemente la maggior parte di voi che sta guardando in questo momento è l'amore, e voi siete, sarete, state per essere, questa è arrivata così, in un momento molto buono, io adesso metto due carte. Allora, una, proprio per le cose che volete realizzare, eh, la metto qua, sul mondo, e un'altra sempre sul mondo, perché è proprio questa cosa che sta venendo verso di voi, no? e l'altra la metto sull'amore. Vediamo che carte vengono. Allora, eh, vedi, comunque sei, allora, questo, è proprio, era sul lavoro, vedi comunque che la maggior parte di voi sta pensando all'amore, ma comunque, secondo me, questo vuol dire che voi darete amore, perché questo è sul lavoro, qualsiasi lavoro, o qualsiasi talento, o qualsiasi cosa voi abbiate dentro di voi, questa cosa che vi sta cercando è che dovete esprimerla, o con bambini, o con gli adolescenti, oppure voi, vi sentirete come un adolescente, voi sarete generosissime, secondo me questa carta vuol dire che voi siete pronti a donare, voi stesse, in questo vostro talento, in questo vostro successo, comunque sia, qualsiasi sia il vostro successo, c'è proprio una grande generosità, e d'altronde, secondo me, tutto quello che noi facciamo deve essere sempre votato anche agli altri, agli altri nel senso dell'universo, agli altri gli esseri viventi, bisogna sempre dare, no? Ecco, qui invece, per l'amore, mi dice che molte persone di voi non credono a questo amore che sta venendo fuori, o non credono più all'amore, ecco, quindi comunque sia, molte persone di voi raggiungeranno un successo, quelli che non ci credono, o che ci credono meno, avranno dei ritardi naturalmente, qui la cosa che vi segna di più è comunque questo meraviglioso dieci di coppe che vi parla proprio di un completamento amoroso, poi abbiamo anche la persona rappresentata dal re di coppe, quindi la fine della croce celtica, rappresentata dal mondo e dalle stelle, quindi, secondo me, questa carta che è uscita da sola, che vi dice che raccoglierete anche il lavoro che avete fatto su di voi, che sia sul lavoro, che sia sull'amore, quindi, cosa succede? quando non ci credete più è perché probabilmente se non ci credete più avete sempre ragione, sapete che cosa si dice nel mondo olistico? Che l'universo ti dà sempre ragione, perché praticamente se tu non credi più a una cosa, questa cosa non accadrà, se tu invece ci credi ancora, è molto probabile aumenti le possibilità, le cosiddette varianti, come le chiama appunto il transurfing, la fisica quantistica, per semplificare, no? Quindi, voglio dire, qui ti sta cercando qualcosa di meraviglioso e questo lo vedete anche voi, poi, una parte di voi andrà avanti, perché crederà a questa cosa e un'altra parte si fermerà un pochino, quindi andiamo a vedere che cosa ancora succede, perché io vi dico quello che succederà e se ti risuona vuol dire che ce l'hai già dentro e che quindi è molto probabile che succeda, eh? Allora, vediamo. Allora, questo è proprio assolutamente comunque un successo, raccogli veramente un successo, la forza dentro ce l'hai per credere sia in te stessa, nel tuo successo, nel tuo talento, in quello che vuoi realizzare, ma ce l'hai anche per credere in questo amore. Se non credi più in questo amore, probabilmente per molti di voi si è anche esaurito, cioè le persone che dicono ormai è passato troppo tempo, a parte che alle volte io lo posso raccontare per esperienze di persone che sono venute da me da una vita, io ho visto rincontrarsi amore anche dopo tantissimo tempo, quindi non è che è quello il punto, il punto è quello in cui credete voi, cioè se voi sentite che è una cosa perduta, lo sarà, ma la forza per riconquistare qualcuno ce l'avete, il fascino della principessa o del principe ce l'avete assolutamente, la forza di superare le difficoltà, ricordatevi che le difficoltà arrivano sempre se tu sei in grado di superarla, ce l'avete, quindi che cosa vi manca in realtà? Vi manca tutto sommato solo un po' di fiducia, anzi la fiducia, oppure non credete più in un amore passato, dedicatevi all'amore nuovo, perché questo è un momento energetico molto bello, cioè queste due carte, questi due arcani maggiori messi così in questa posizione nella finale della croce celtica, come poi le altre carte stanno anche confermando, è proprio un successo per voi, quindi andiamo a vedere che cos'altro hanno da dirci. Allora, questo amore se volete una relazione qui può essere abbinato, ormai la croce celtica la incomincia a disfare, allora, qui può essere abbinato appunto al 10 di coppe, perché rappresenta anche la persona nuova, rappresenta anche la relazione, qui se voi veramente volete, se siete single per esempio, ma anche se aspettate qualcuno del passato e non ci credete più tanto, guardatevi intorno, perché ci sono delle energie che vi fanno proprio incontrare questa persona, anzi, questa persona vi sta già cercando, poi è chiaro che se voi non la volete, questo è qualcosa che dovete decidere voi, qui le carte ti dicono, guarda, la strada è questa, di questo momento che sei capitato qui, c'è qualcuno che ti vuole avvisare, no, come diceva la primissima carta, no, c'è qualcuno che ti vuole proprio avvisare che sta proprio arrivando qualcosa per te, quindi non essere triste, non farti prendere dalle tristezze, anzi, questo è il momento che tu dovresti concentrare davvero proprio le tue energie su quello che realmente ti fa star bene, perché quando, anche se in questo momento dici ma io sto male, cerca di sforzarti di stare bene, di fare qualcosa, rilassati, respira, cammina, ama il mondo, raccoglierai tantissimo, raccoglierai queste due carte energetiche che ti cambiano la vibrazione, perché la croce è celtica, un po' come i pianeti, tutto, è tutto poi alla fine dentro di noi, io vedo che molti di voi stanno facendo un grande lavoro su se stesso, perché questa secondo me è anche la carta della centratura, quindi io vedo che molti di voi avranno un successo, diciamo la maggioranza di chi sta guardando, allora questa persona quindi chi ti sta cercando, chi o cosa ti sta cercando, allora il tuo successo ne abbiamo già parlato, ti sta cercando, è tuo, ti appartiene per destino, non te lo toglie nessuno, puoi solo rallentare, perché puoi avere degli alti e bassi di fiducia, quindi puoi solo rallentare ma è comunque tuo, per quanto riguarda l'amore, qui comunque c'è qualcuno che vuole proprio una relazione, relazione, no? Come dicevi anche tu vuoi una relazione, anche se tu in questo momento sei triste, tu la vuoi per il tuo futuro la relazione, perché questo è il punto del futuro nella croce celtica, no? Quella classica, diciamo antica che conosco io, quindi questo è il tuo, è quello che tu desideri profondamente, una persona con cui sta bene, essere sereni, questa persona c'è, se tu la chiami questa persona arriva, non è importanza che chi sia adesso in questo momento, ma dobbiamo rimanere nelle energie che ci sono in questo momento, no? Perché tu adesso hai una grande forza interiore, quindi questa è la tua forza, quindi questa è la tua forza e raccogli proprio la tua accentratura come ti dicevo prima. Allora, mettiamoci un po' su queste carte, un oracolo alla moda che ci racconta qualcosa ancora di te che stai guardando. Allora, qui Stefan Jones ti dice che di concentrarti, beh, c'entra col leone se vogliamo sorridere un po', no? I capelli sono un po' la cosa che devi curare di più in questo momento, evidentemente ti fa star bene a te curare i capelli, naturalmente si intende tutto, però in questo momento proprio i capelli, perché ti dice che di scambiare, naturalmente la mia interpretazione, di immaginarti che i tuoi capelli siano la tua corona, bella questa metafora, D'altronde sei una principessa, quindi immaginati di indossare una corona, fatti una capigliatura che ti guardi allo specchio e guardala proprio con l'intenzione che sia una corona, anche solo nella tua immaginazione, però girare, qui dice andare per locali, ecco, qui ti dice anche andare per locali può essere utile alla tua carriera, no? Per locali lo sai tu quali sono, potrebbero essere discoteche, potrebbero essere bar, potrebbero essere musei, ecco, non è che devono essere per forza dei locali notturni, però evidentemente qui ti dice che ti sentiresti un po' a tuo agio in questo periodo, quindi cura molto la capigliatura, ti dice questo, D'altronde sei regale tu, no? E hai la forza in questo momento, evidentemente questo ti aiuterà molto. Allora, andiamo anche un po' a vedere con queste carte quel messaggio all'inizio che ti diceva che tu stai comunicando e che hai delle doti di comunicazione che stai comunicando, anzi stai ricevendo dei messaggi, qualcuno vuole assolutamente comunicare con te. Vediamo un po' di più su che cosa ti vuole dire questa persona che abbiamo visto che potrebbe essere un angelo o un tuo trapassato. La mia sensazione è che è qualcuno a cui tu volevi molto bene da bambina, quindi potrebbe essere un nonno o una nonna, ma potrebbe anche essere qualcuno che ammiravi da bambina, che arriva a dirti qualcosa, magari ammiravi un tuo insegnante per dire e magari lo sogni che ti è venuto a dirti, facciamo l'ipotesi, un esempio, tu sei un musicista o una musicista, magari avevi un insegnante sogni questo insegnante indipendentemente a dire la verità che sia vivo o morto non ha importanza, ecco che sia trapassato o no, comunque lo sogni che è come se la sua anima fosse venuta a dirti guarda che è questo il tuo momento. Ora ti ho fatto questo esempio ma naturalmente tu puoi metterlo sui tuoi talenti, sui tuoi successi, sulle cose che vuole. Vedi, questa persona arriva a darti anche la sua forza e il suo equilibrio. Comunque è proprio secondo me ti vuole parlare di una quello che ti ti vuole annunciare, un'annunciazione questa, ti vuole parlare di una grande sorpresa, di una bellissima sorpresa. Io vedo che o tu appunto è un sogno notturno, ti svegli alla mattina e dici ecco è proprio questo e poi vedi questa immagine a me piace molto perché abbiamo la persona che attraversa una porta come se avessi il dono dell'invisibilità. A me viene da dire che questa persona che ti dà o questo angelo che ti dà la visione o notturno nel tuo dormiveglia ti farà vedere secondo me un'immagine chiara e forte di qualcosa che ti sta per accadere di bello naturalmente questo è quello che sento e infatti tu sei pronta a questo nuovo battesimo. Secondo me il battesimo è anche un'iniziazione che riguarda proprio una comunicazione magari col tuo spirito guida magari per la prima volta parli col tuo spirito guida gli spiriti guidi guida può essere lo stesso tutta la vita o può cambiare io per esempio qualcuno l'ho cambiato nel corso della vita dello spirito guida perché a seconda di come cambiamo noi qui c'è un battesimo quindi secondo me c'è veramente chi sta guardando questo video secondo me ha veramente qualcosa da esprimere nel mondo quindi qui abbiamo guardato diverse cose però voi lo sapete dentro di voi quello che dovete esprimere la missione mi viene da dire della vostra anima quindi poi c'è anche questo incontro d'amore vediamo che carta anche queste carte le carte delle porte sono piuttosto magiche a me piacciono molto come sono rappresentate tutti i tarocchi hanno delle sfumature diverse qui ti dice proprio che questo amore che arriverà per te passato futuro non sappiamo comunque che ti sta già cercando questa persona secondo me avrai proprio tanto calore sentirai proprio che ti senti a casa con questa persona questa è la cosa più più bella che sentirai ti sentirai proprio contenta contento ma sentirai dentro di te questa frase sono dove volevo essere e tutto questo sta per accadere allora in questa stesa grossi ostacoli in realtà non ce ne sono se no appunto un po' questo senso di solitudine un po' questo questo ritardo diciamo per molti di voi perché come fare a darmi un tempo non solo perché è un interattivo è assurdo dare un tempo ma perché poi i tempi cambiano allora la vita cambia in un attimo quindi tutto questo può accadere subito dipende anche dalla velocità interiore noi più stiamo meglio più le nostre cellule vibrano sono velocissime cioè più stiamo meglio più amiamo la vita più stiamo così più è un paradosso questo che vi sto per dire più le nostre cellule vibrano perché noi alziamo le nostre vibrazioni ma nello stesso tempo siamo più calmi per questo che vi dicevo questo sembra un paradosso ma non lo è adesso io so che in tutto questo ci sono i fratelli della luce che vi vogliono dire una cosa che non vedevano l'ora di dirvi e io sono pronta a leggervi cosa vi vogliono dire allora la libertà che vi aspetta oltre al tunnel colmo di ostacoli cioè questo vostro momento che abbiamo visto prima vi aspetta la vostra libertà la libertà di esprimervi la libertà di essere veramente voi stessi che è la cosa più importante quindi ci sono anche le vie di mezzo dice perché voi adesso in questo momento non avete idea di questo cambiamento che sta per avvenire però come vi dicevo prima il tempo può essere velocissimo o lento dipende perché poi è tutto perfetto ecco quindi c'è un tempo giusto magari dovete finire di completare delle cose oppure mi viene anche da dirvi dovete finire di completare a volte anche la sofferenza perché il senso di solitudine perché poi si apprezzerà di più con questo senso di solitudine si apprezzerà di più la compagnia si apprezzerà di più il calore alle volte quando si hanno tante cose si hanno famiglia amici lavoro tutto non si riesce ad apprezzare tutto perché tutto è come i bambini che beh a parte non entriamo adesso nei discorsi sociali diciamo solitamente i bambini hanno tutto hanno i genitori sono curati coccolati viziati non so come dire poi la vita cresce uno dice la vita diventa dura perché tutto quello che hai compresi a un certo punto anche i genitori comincia a mancarti tutto o a mancarti gran parte diciamo delle cose uno dice la vita diventa dura l'amore diventa difficile noi crediamo sempre meno ai nostri sogni allora se stiamo in queste fasi così è giusto che ci dobbiamo stare finché ci stufiamo perché arriva a un certo punto che noi ci stufiamo di stare in questa fase di piangersi addosso in questa fase allora abbiamo una spinta interiore che è sempre dentro di noi la forza che è uscita prima e la comunicazione c'è sempre ma non sempre la sentiamo questa volta la sentirete tutti forte e chiaro perché è venuta proprio come prima carta è questa quindi per me la prima carta è importante di tutto quello che stanno per dire quindi secondo me anche i fratelli della luce vi dicono che questi ostacoli erano importanti che prima erano ostacoli grandi adesso sono un po' per alcuni sono dei gradini per alcuni sono delle camminate ecco quindi direi che questi suggerimenti vi aiutano diciamo a darvi la forza di credere di credere di credere al vostro cuore non dovete altro che credere ai vostro cuore se il vostro cuore è troppo triste non riesce neanche a sognare però perciò ci vuole uno sforzo da parte vostra all'inizio no perché allora questa carta vi dice per la crescita di un essere cioè i fratelli qui della luce vi dicono per la crescita di un essere essenziale che sia lui a scoprire da sé che cosa lo rende grande che cosa allora fatti questa domanda se stai ascoltando questo video che cosa ti rende grande ma non grande a livello di ego naturalmente grande per esempio questa stesa ha parlato aiutare gli altri aiutare gli adolescenti aiutare i bambini aiutare gli altri donare se stessa perché questo era sul lavoro era venuto e quindi la regina di coppe sul lavoro quando avevamo chiesto è proprio con lei che ha voglia di donare se stesso per esempio già questo ti rende grande perché questo quello che ti rende grande che cosa vuoi lasciare mi viene da dire che impronta vuoi lasciare nel mondo quando te ne andrai che cosa vuoi lasciare il tuo amore poi alla fine perché è quello che si ricorderanno le persone e quindi dice che tutto questo è importante per i tuoi strati sottili diciamo e poi di conseguenza nella manifestazione fisica ecco quindi tutto questo se prima avviene nel mondo sottile poi non può altro che avvenire anche nella manifestazione fisica quindi io direi che vi hanno dato un messaggio molto completo molto totale ricordatevi che quello che avete nel cuore quello che vi rende grandi è proprio quello che vi sta cercando quello che voi avete dentro il cuore che vi rende grandi ti sta cercando per essere manifestato adesso e ancora nel piano sottile un abbraccio a tutti ciao e grazie dell'ascolto a risentirci a presto ciao ciao Grazie.